ho comprato i gamberetti e adesso li pulisco tolgo la testa poi delicatamente e premendo la parte della coda sfilo poi pian piano continuo a sfilare il resto subito subito ecco qua vedete ne faccio un altro così vi faccio vedere tolgo la coda e qui tolgo la testa tutta quanta e sfilo ne faccio un altro tolgo la testa sfilo premendo un pochino la coda e apro dalla parte della pancia e tolgo tutta la corazza ecco un altro si fa subito tolgo la testa stacco la coda ecco ne un altro tolgo la testa stacco la coda dalla parte della della pancia nel sottoventre tolgo tutto quanto il resto tolgo la testa sfilo la coda premendo un po e tolgo l'altra parte e così fino a finire tutti quanti i vari crostacei che ho questi sono veloci e buoni faccio subito subito ecco fatto giustamente a me servono un bel po perché siamo oggi siamo tanti e quindi sennò bisogna anche prendere in considerazione che dopo cotti questi diventano piccoli piccoli quindi almeno almeno un 6 a testa bisogna considerarli bene continuo io arrivederci a presto con una nuova ricetta ciao ciao